Buongiorno amici della Capitane Immobiliare, sono Giacomo e oggi vi porto a vedere uno splendido bilocale con una vista panoramica splendida dietro Piazza Firenze. Andiamo! Abbiamo appena entrato nel condominio, andiamo con l'ascensore e saliamo lontano piano. Venite con me, eccoci qua. Allora, entriamo direttamente su questo soggiorno, come potete vedere, super luminoso, con un balcone, con una vista spettacolare. La cucina, che è completa di tutti gli elettrodomestici, lavassoviglie, forno, piano gas. E da questo lato invece abbiamo un comodo disimpegno con bagno, con vasca idromassaggio e ovviamente finestrato. E qua una comodissima lavanderia. Beh, la camera matrimoniale è super luminosa, aria condizionata ovviamente, e anche una comodissima cabina armadio. Questa è veramente una chicca. In via Macmon al numero 49, la richiesta è di 1200 euro più 200 di spese.